Questa è la storia di una curiosa fotografia. Se la fisica fosse insegnata partendo da quella fotografia, il passaparola di quanto è bella correrebbe veloce. Il mistero riguarda tutti e 29 questi uomini in posa. Siamo nel 1927 e questo è il quinto ritrovo dei fisici di fama mondiale a Bruxelles. Un argomento senza dubbio affascinante, quanto solo può esserlo il Big Bang. E questa è la storia di come nasce la fisica quantistica. Grazie. 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 Grazie.